Oggi si è parlato della vendemmia 2022 all'Istituto Agrario di San Michele all'Adige facendo una sintesi di quella che è stata una vendemmia molto particolare. Nella fase pre-vendemiale una grande apprensione in quanto il periodo essicitoso e le alte temperature di luglio hanno messo a serio rischio la potenziale qualità delle nostre uve. Si temeva molto rispetto alle tenute delle acidità e a un corretto attività vegetativa della vite in conseguenza delle temperature straordinariamente elevate e della siccità particolarmente incidente. Fortunatamente a fine luglio le condizioni climatiche si sono molto modificate e la vite si è adattata alla nuova situazione limitando le perdite dal punto di vista della frazione acidica ma nel contempo anche una grande attenzione da parte degli enologi che hanno monitorato con attenzione la fase di maturazione dando il via alle vendemmie in modalità di salvaguardare le acidità delle uve e rinunciando talvolta a una piccola parte di gradazione zuccherina aspetto che però sia anche poi evoluto nel senso che a partire dal 20 di agosto in conseguenza anche di alcuni temporali e l'abbassamento delle temperature anche gli zuccheri si sono incrementati in modo importante e diciamo quindi che per quanto riguarda le uve destinate alla produzione dei vini bianchi e delle base spumante la qualità è stata decisamente buona, molto alta ha richiesto qualche intervento di acidificazione ma sicuramente una grande qualità per la varietà frutto rosso la piena maturità fenolica che abbiamo registrato quest'anno è stata di grande utilità nell'ottenere vini importanti e sicuramente adatti ad un lungo invecchiamento